Pinettinie Moderne, ottava edizione a Pineto, Luca Romanelli l'organizzatore di questo evento, allora quattro giorni dedicati alla musica etnica. Esattamente, questa è ormai la ottava edizione di Pinettinie Moderne, Music Festival 2014, organizzato anche con la collaborazione del Comune di Pineto e tutta l'amministrazione che ci ha dato una mano. Quest'anno quattro gruppi, iniziamo domenica 10 agosto con Ino Braino, poi l'11 agosto è la volta dei management del dolore post-operatorio, un gruppo di Lanciano. Poi quest'anno ci siamo rinnovati perché abbiamo voluto fare l'evento nell'evento, ossia il PMC, Pinettinie Music Contest, l'evento nell'evento per dar spazio anche a gruppi emergenti e poi ci sarà la botta finale il 13 agosto con i Sud Sound System, gruppo conosciutissimo Salentini. Quindi il nostro appello è quello di partecipare a tutti a questo evento, quattro giorni insegna la musica e si possono anche degustare gli arrosticini e il formaggio di Monti della Laga. Ingresso gratuito, voglio ringraziare tutti gli sponsor che hanno aderito per l'organizzazione di questo evento anche quest'anno e l'amministrazione comunale che ha creduto in questa manifestazione fin dall'inizio.